via alla nuova raccolta differenziata nel centro di pesero lirica in lutto addio alla soprano elvidia ferracuti faccio al miralfiore arrestato uno dei pusher più attivi a pesero i murales anti smog contro le discriminazioni a qualagna via alla fiera del tartufo solidale a pergola buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione serale di rossini news telegiornale di lunedì 24 ottobre che apriamo occupandoci di questo primo giorno di nuova modalità di raccolta differenziata dei rifiuti in buona parte del centro storico di pesero è stato infatti abbandonato il porta a porta in favore delle isole ecologiche con cassonetti intelligenti le prime sei isole ecologiche installate e in funzione a partire da oggi vediamo com'è andata sacchetti dell'immondizio in una mano carta smeraldo nell'altra e tanti operatori di marche multiservizi ad aiutare le utenze del centro storico che da oggi cominciano la nuova modalità di raccolta differenziata una nuova modalità che riguarda una buona parte del centro storico 900 utenze coinvolte primo giorno di partenza di questo servizio che ha avuto una lunga fase di gestazione con una campagna informativa oggi si è partiti con le sei le prime sei postazioni qualche inconveniente di partenza nell'attivazione di alcune postazioni con gli operatori di marche multiservizi che hanno dato una mano anche utilizzando dei passpartout poi gli inconvenienti sono stati risolti nel corso della mattinata e dunque si parte si parte con le prime 900 utenze tra residenti e attività commerciali che riguardano via gramsci via le 11 febbraio e via san francesco una attivazione di questa raccolta differenziata che necessita obbligatoriamente della carta smeraldo fino a ieri ne avevano ritirati circa il 75 per cento degli aventi diritti tanti ancora oggi l'hanno fatto ritirandola al gazebo predisposto da marche multiservizi in piazza del popolo una nuova partenza voluta fortemente dal comune un esperimento destinato ad essere allargato come ci spiega l'assessore all'operatività del comune di pesaro enzo belloni devo dire come tutte le cose e ancora siamo in rodaggio ovviamente le criticità rispetto a questi cassonetti ovviamente sono quelle dei posti auto che in qualche modo abbiamo perso ma abbiamo subito prontamente recuperato è chiaro come che è una modalità di raccolta condivisa un po da tutti perché vedere i sacchetti in giro in centro non è non è il massimo per questo abbiamo iniziato questa progettazione che ha l'ambizione di coprire tutta la ztl e per ora sono stati posizionati sei cassonetti ne verranno posizionati nei prossimi mesi altri 18 la consegna delle tessere sta avvenendo era la prima fase diciamo si è completata sabato e si continua anche perché ancora circa il 75 per cento delle utenze domestiche ha ritirato la tessera quindi ne manca un buon 25 per cento e le attività commerciali sono sotto il 50 per cento e i residenti fuori zona cioè quelli che vengono qua magari in vacanza o solo per qualche settimana sono sotto il 40 per cento quindi marchi multi servizi si è attrezzata con un gazebo per dare tutte le informazioni per consegnare la tessera a chi ancora la la deve la deve ritirare oggettivamente i primi giorni sono importanti anche per dare un segnale di di civiltà perché vedere i sacchetti fuori dei cassonetti perché uno magari non ha avuto tempo voglia di andare a ritirare la tessera non è un bel segnale alle mie spalle vedete la postazione dell'isola ecologica di via spada una delle sei predisposte in questa prima porzione di centro storico le altre si trovano in via nobili in via morselli in via delle contramine con angolo via borgomozzo in via del moro vicino al liceo classico e nella piazzetta di via giordano bruno sei postazioni che hanno anche un costo piuttosto oneroso come ci ricorda l'assessore belloni un'installazione che ha un costo di circa cinquanta mila euro ogni postazione quindi è un impegno importante che dal punto di vista economico da parte di marche multiservizi e rispetto ai cassonetti intelligenti e come ci piace chiamarli avremo a disposizione per circa due o tre settimane degli operatori di marche multiservizi che gireranno le sei postazioni per dare le informazioni che il cittadino riterrà opportune si muoveranno da una postazione all'altra nel corso della giornata e se qualcuno ha bisogno di chiarimenti può utilizzare il gazebo di piazza del popolo oppure l'operatore che incontrerà nelle varie postazioni si sono ottenuti questa mattina nella chiesa del porto di pesaro i funerali di elvidia ferracuti la celebre soprano si è spenta all'età di 87 anni dopo mezzo secolo trascorso come riferimento della musica lirica internazionale la ferracuti nacque nella fermana petritoli ma fu adottata dalla città di pesaro nella quale si trasferì dagli anni cinquanta per studiare al conservatorio da tutti era conosciuta come la rosina delle marche in omaggio al suo ruolo rossignano più eseguito passiamo alla cronaca perché la squadra mobile della polizia di pesaro ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un nigeriano di 25 anni residente in città nonché aspirante cantante rap ben inserito nel tessuto cittadino la segnalazione agli investigatori è arrivata in seguito ad alcune risse al parco miralfiore relative a compagini nigeriane molto attive nello spaccio di droga dopo una perquisizione a casa del 25 anni i poliziotti hanno trovato 30 dosi di sostanze stupefacenti per 15 grammi fra eroina e cocaina il tutto confezionati in modo tale da essere ingerite e trasportate con la modalità del body packing nelle corso della perquisizione il ragazzo ha tentato di disfarsi anche di un involucro gettandolo dal terrazzo che però è stato recuperato attraverso l'ausilio del gruppo cinofili della questura di ancona sono stati così trovati anche sei ovuli di eroina e tre di cocaina del peso di 100 grammi la polizia ritiene di aver messo le mani su uno degli spacciatori di riferimento del parco miralfiore ed ora cambiamo argomento lo avranno già notato i tanti cittadini pesaresi in transito in zona pantano o in zona cappuccini perché via cardinal massaia via saf e via vincenzo rossi sono ora bellite da nuovi maxi murales dal significato molto particolare che approfondiamo ora nelle interviste realizzate questo pomeriggio dal nostro edoardo razzi più colore meno inquinamento e più coesione sociale quello del murales nel sottopasso di via rossi nel quartiere di pantano non dipinge solamente una parte della città ma cerca di trasmettere valori contro ogni genere di intolleranze e discriminazione il filo di arianna il titolo che da nome al murales oltre a rappresentare l'unione di tante mani che si stringono tra loro è stato realizzato con una vernice anti smog in grado di trasformare gli agenti inquinanti in sostanze innocue la street art differenza di opera un po più astratta deve essere diretta parla al popolo quindi deve essere compresa da tutti è per strada migliaia di persone la vivono ogni giorno quindi il messaggio deve essere comprensibile credo che delle mani diverse che si uniscono in segno di unione di congregazione possa essere appunto in un certo senso diretto e si racconta un po' da solo facile insomma capire che è meglio stare uniti che separati è meglio tenersi per mano che utilizzare le mani per la violenza non so specialmente in un periodo delicato come questo il significato può essere anche intercettabile attraverso lo smartphone perché c'è un QR code quindi magari attraverso l'identificazione del QR code si può scoprire la storia dietro a quest'opera sì, il QR code appunto ricollega un sito, un portale dove c'è sia tutto il racconto dell'opera ma anche il dietro alle quinte, il backstage, i giorni di lavorazione sono stati tutti ripresi c'è un reportage vero e proprio di quello che è la nascita dal concetto fino alla fine della realizzazione non abbiamo voluto commissionare un'opera semplicemente a un artista ma l'abbiamo voluto accompagnare dentro un gruppo di lavoro dei compagni di viaggio quindi oltre allo sponsor che ha creduto tanto in questa iniziativa cioè JTA Italia abbiamo coinvolto oltre all'amministrazione i papà per scelta Carlo e Cristian Di Florio abbiamo coinvolto i pensieri e colori di Milano abbiamo coinvolto i nostri volontari di Save the Planet e abbiamo creato insieme a Archigey un gruppo partecipato di persone, tutto questo ha generato un filo tra noi questo filo è piaciuto tanto anche al Writer e l'ha fatto diventare il filo di Ariane con la Schwa un filo che ha unito tanti cuori nel creare un'opera come questa e che speriamo possa anche aprire le menti di tutte le persone che passeranno davanti a quest'opera è un'opera dedicata all'amore, all'amore senza confini, è un'opera contro ogni forma di discriminazione molto bella e al tempo stesso con questo impatto sulla sostenibilità molto forte grazie alla pellicola che è stata messa che attrarrà CO2 e sostanze inquinanti una bella collaborazione con JTA Italia, la prima che abbiamo fatto, spero che possa continuare in futuro ed è un altro tassello rispetto a questo percorso museale direi di street art che abbiamo costruito in questi anni e che sarà un elemento centrale anche della capitale italiana della cultura però non ci fermeremo qui, andremo avanti anche nei prossimi anni e vorremmo rendere Pesaro sempre più anche un luogo dove tanti artisti potranno sperimentare la loro creatività rendendo Pesaro ancora più bella, ancora più moderna, ancora più accogliente Dobbiamo veramente nei prossimi anni ripensare al modo di costruire, al modo in un qualche modo di fare urbanistica per riuscire in un qualche modo anche nel nostro piccolo a affrontare quel problema importante del cambio climatico che sta diventando sempre più evidente a tutti Ed ora ci spostiamo ad Acqualagna dove ieri è stata inaugurata la 57esima fiera del tartufo bianco pregiato quest'anno all'insegna della solidarietà ai vicini comuni alluvionati Amici di Rossini TV, benvenuti ad Acqualagna Patria e terra privilegiata per il tartufo bianco e infatti siamo arrivati qui per la 57esima edizione una fiera internazionale nel tartufo bianco pregiato di Acqualagna Ricordiamo che questa è un'edizione legata anche alla solidarietà in questa occasione alcuni produttori dei comuni colpiti dall'alluvione del 15 settembre sono stati ospitati ospitati perché per esempio a Pergola non è stato possibile fare la festa del tartufo che avrebbe avuto luogo proprio in questi giorni La 57esima fiera che viene dopo altre 56 vuol dire che Acqualagna è una certezza per il territorio l'organizzazione non è da poco che coinvolge tante tante persone però siamo soddisfatti del risultato è una fiera all'insegna della solidarietà purtroppo l'alluvione che ha colpito i nostri territori la fattidica notte del 15 settembre ha condizionato molti comuni noi abbiamo previsto diverse iniziative proprio di solidarietà nei confronti del comune di Pergola e di Cantiano e non solo questi riguardano sia eventi musicali per raccolta fondi oggi ad esempio consegneremo la Ruscella d'Oro alla città di Pergola come riconoscimento del lavoro fatto negli anni passati Siamo molto riconoscenti a tutto il comune di Acqualagna all'amministrazione e tutti gli organizzatori di questa manifestazione per questo riconoscimento e per l'accoglienza che hanno fornito a Pergola all'interno della loro manifestazione così come lo stanno facendo diversi altri comuni ai quali siamo legati tramite il tartufo in seguito all'alluvione abbiamo purtroppo dovuto decidere è stata una decisione difficile da prendere ma decidere di annullare l'edizione 2022 della nostra fiera del tartufo che si sarebbe dovuta svolgere come consuetudine nelle prime tre domeniche di ottobre e quindi ecco da lì in poi abbiamo veramente riscontrato tanta solidarietà e tanta accoglienza da parte di tante città del tartufo e a loro siamo veramente grati Amici di Rossini TV siamo qui con Stefania Tofani dell'azienda Tofani Tartufi a cui chiediamo un'impressione sulla produzione del 2022 Allora la produzione è ancora come quantitativi siamo un po' scarsi perché secondo me è partita in ritardo e speriamo, siamo fiduciosi che comunque nelle prossime settimane esca ancora più prodotto La qualità è comunque ottima perché è molto profumato e visto anche le temperature comunque calde non avendo avuto tanta acqua ha potuto acquisire una profumazione più intensa La nostra famiglia commercia tartufi da ben 70 anni quindi siamo tre generazioni di commercianti di tartufo Questa acqua lagna ormai è famosa in tutto il mondo per il tartufo bianco e siamo orgogliosi comunque di avere un'azienda che rappresenta in toto questo territorio E quello che avete visto era soltanto un piccolo estratto di uno speciale d'approfondimento realizzato dalla nostra Nicoletta Tagliabracci sulla fiera del tartufo di Acqualagna che andrà in onda giovedì 27 ottobre alle ore 20.10 Altro speciale che invece andrà in onda su Rossini TV mercoledì 26 ottobre alle 21.20 è quello che riguarda l'istituto alberghiero Santa Marta che nei giorni scorsi ha ospitato una tappa del concorso europeo per istituti alberghieri tenutosi nelle marche Aspettando lo speciale vediamo come è andata in parte di questo servizio Raffaella Neri studentessa dell'alberghiero Santa Marta di Pesaro ha collezionato un prestigioso terzo posto nella competizione dedicata alla realizzazione di cocktail all'interno dei tanti riconoscimenti assegnati nel 35esimo concorso internazionale a EHT tenutosi nei giorni scorsi a Senigallia con un importante appendice a Pesaro città e istituto che vengono insegnati di un premio di preso a corredo di giornate già estremamente gratificanti per l'istituto Santa Marta già perché il concorso internazionale a EHT rappresenta la competizione didattica annuale fra istituti alberghieri d'Europa e ha avuto in Pesaro, Senigallia e nelle Marche il baricentro di questa vetrina continentale Ogni anno questa manifestazione si svolge in una città europea, di uno Stato europeo e quest'anno è toccata l'Italia e in particolare l'istituto Panzini di Senigallia che ospita questo evento e noi però siamo un istituto alberghiero e tutti gli alberghieri sono uniti in questa cosa quindi soprattutto quelli marchigiani si sono messi insieme per dare un contributo e collaborare per la perfetta riuscita di questa manifestazione A coordinare il progetto è stata la professoressa Antonella Donadei un progetto che ha collocato nel 21 ottobre una giornata libera da gare per i tanti studenti accorsi nelle Marche dal resto d'Italia ed Europa La città di Pesaro assieme a quelle di Cingoli Loreto e San Benedetto del Tronto sono state le mete di un viaggio esplorativo nelle realtà regionali legate ad un approfondimento turistico come quello offerto dalla prossima Capitale della Cultura 2024 Questa giornata noi abbiamo deciso di dedicarla a far apprezzare le realtà del luogo quindi in particolare abbiamo usato Pesaro come centro principale e Pesaro però ovviamente abbiamo parlato di tutte le ricchezze di tutto quello che ci può essere nella provincia a cominciare anche dalle specialità siamo un alberghiero e no gastronomiche e a questo proposito volevo ringraziare una serie di persone e anche di enti che hanno dato la possibilità ho già detto del preside Rossini che ha dato la disponibilità della location e anche della visita della scuola perché comunque è una scuola ma è un monumento è Villa Caprile è anche una scuola dove c'è una cantina ci sono tante cose che agli studenti di un istituto alberghiero sono molto importanti a vedere la produzione insomma però volevo anche ringraziare in particolare il direttore provinciale della Confcommercio il dottor Amerigo Varotti per il suo contributo a sostenere le spese perché ci sono spese ci sono state quindi molto volentieri ha accettato questo ringrazio anche il vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini nella giornata di ieri a Talacchio nelle comune di Vallefoglie è stata intitolata a Duilio Mulazzani la piazza compresa fra il circolo e il teatro parrocchiale della frazione Duilio nacque proprio a Talacchio nel 1929 e assieme all'impresa di Claudio e Fernando Mulazzani rispettivamente zio e padre fu protagonista di importanti opere strutturali nel territorio di Colbordolo e della stessa Talacchio doppio appuntamento domani martedì 25 ottobre alle ore 11 e alle 21 al teatro sperimentale nell'ambito dell'undicesimo GAD Festival Ragazzi in programma ci sarà Cattivi Bambini scritto e interpretato da Nicola Sciuferri si tratta di un percorso di rilettura e riscrittura in chiave attuale e distopica di alcune fiabe per bambini tradizionali che fanno emergere aspetti della contemporaneità in maniera diretta e talvolta cruda il successo della decima edizione di Novilara Arte Gusto organizzata dall'associazione culturale La Stele diventa un cortometraggio realizzato da Filippo Biagianti il documentario sarà trasmesso in anteprima giovedì 27 ottobre al Cinema Solaris di Pesaro con biglietto di ingresso al costo di 5 euro e continuano i riconoscimenti per Elisa Mainardi pesarese che nello scorso mese di settembre si è laureata campionessa europea di foot volley nella prima edizione dell'organizzazione della competizione continentale venerdì Elisa è stata anche premiata in Campidoglio a Roma per il prestigioso traguardo raggiunto e invece le immagini che vi mostriamo ora si riferiscono alle celebrazioni del novantesimo compleanno del gruppo concessionario Gabbellini fondato da Augusto Gabbellini nel lontano 1932 quella di venerdì è stata una serata celebrata al centro Porsche di Pesaro dove sono stati tolti i veli alla Porsche 911 Sport Classic a margine di una festa nella quale sono state riperorse le tappe di una longeva e proficua storia imprenditoriale fondata sul lavoro di squadra che ha marchiato il territorio pesarese e non solo e come ogni lunedì concludiamo il nostro telegiornale con le notizie sportive dopo un weekend non troppo sorridente per VL Vispesero e Ital Service sorride come invece la Megabox Vallefoglia vincente alla prima di campionato alla Vitrifico Arena c'è voluto un tempo supplementare per sancire la vincente fra Carpegna Prosciutto Pesero e Gevi Napoli l'hanno spuntato i campani 97 a 99 dando corpo ad una sconfitta amara per i 4.000 pesaresi presenti nell'astronave una sconfitta che ha il sapore dell'occasione sprecata perché Pesero seppure con distacchi contenuti ha sempre tenuto il muso avanti sugli avversari alla fine di primo secondo e terzo quarto salvo essere raggiunta sull'87 pari alla sirena per poi perdere una palla sul 95 pari all'overtime che costata la partita ottima gara per Moretti top scorer con 24 punti come positive sono state le prove di Abdurrakam Kravic e Tambone bocciature per Cittam e Ciaralan Populos Napoli indigesta a Pesero anche nel calcio a 5 perché l'Ital Service sul campo di Montesilvano perde 2-1 contro la capolista campana nonostante il vantaggio di De Oliveira e una prestazione di grande abnegazione degli uomini di Colini nel calcio la Vispesero torna a muovere la classifica dopo due sconfitte consecutive ma non riesce a segnare per la terza gara di fila risultato un misero 0-0 contro l'Alessandria che manifesta il momento involuto della squadra di Sassarini che ha necessità di recuperare infortunati e verosimilmente di ingaggiare rinforzi in serie D anche il Fano si presentava incerottato all'appuntamento interno col Termoli e ne è uscito un pareggio 1-1 sorride invece la Megabox Vallefoglia che alla prima di campionato Urbino vince al tie-break per 3-2 sull'Ostica Cuneo Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News dopo il TG per chi ci segue nella prima edizione alle 20.10 c'è il nostro consueto spazio del lunedì con lo spazio Salute San Decenzo questa sera ci occuperemo di medicina estetica con appunto i servizi dello spazio Salute San Decenzo che va in onda tutti i lunedì alle 20.10 poi ci sono le tante repliche che vedete in grafica dal martedì alla domenica la nostra prima serata di questo lunedì 24 ottobre è dedicata invece all'esperienza della regione Marche al TG di Rimini edizione 2022 appuntamento da scoprire questa sera alle 21.20 e poi domattina torna l'appuntamento quotidiano con la rassegna stampa dei quotidiani locali Buongiorno Rossini che va in onda come sempre in diretta dal lunedì al sabato edizione di martedì che sarà condotta dal nostro Antonio Astuti che vi terrà compagnia a partire dalle 7.20 e prima di salutarci vi lascio all'ultimo degli otto trailer degli altrettanti spettacoli in programma in questa edizione del Festival GAD come di consueto noi vi lasciamo al trailer ma poi vi invitiamo a votare il vostro trailer preferito nella pagina Facebook Amici della Prosa GAD Pesero e vi ricordiamo che il più votato sarà premiato in occasione della celebrazione conclusiva del GAD del prossimo 30 ottobre e dunque vi lascio al trailer vi saluto e vi auguro una buona serata in compagnia dei programmi di Rossini TV sarò il governatore no di più di più e come mai certo perché sarai sarai un personaggio e che nomi strani che hanno Flori, Smart e Dirkania terza cosa resterà dei tuoi spaventi e la mia paura cosa ne sarà del tuo scacco matto la Isse prima noc no no Ius no no Ius Isse Isse morir sabio viverma media noce la morirò e la mia paura di Rossini TV Grazie a tutti.